Prima della preghiera finale, volevo ringraziare le due catechiste, Tina e Anna, che hanno seguito il percorso di formazione di questi ragazzi, che non si sono mai scoraggiati, eccellenza, pur essendo piccolo il numero, hanno avuto la costanza, il desiderio e il coraggio di essere sempre presenti il giorno della catechesi di questi ragazzi. Subito dopo la preghiera post comunio, eccellenza, lei benedirà le nuove campane. Queste campagne sono state realizzate con il contributo, prima di tutto, degli emigrati negli Stati Uniti. Sono stato lì nel mese di ottobre, li ho incontrati tutti, ho proposto loro questo progetto e loro, con tanta generosità, hanno accettato. Il progetto totale di fusione delle campane che andavano rifuse e di automazione di tutto il progetto, ha avuto il costo di 39 mila euro, che grazie a Dio riusciamo a pagare, sia grazie al contributo degli emigrati negli Stati Uniti, sia grazie al contributo di alcune famiglie di Montescaglioso, al contributo dell'amministrazione comunale, a cui ho chiesto anche una mano, al contributo delle confraternite, del comitato feste. Perché io ho sempre spiegato loro che queste non sono cose del parco, sono cose della comunità e quindi tutta la comunità deve essere coinvolta e partecipano quando si mettono su progetti di questo tipo. Ci sarà la campana grande che avrà il nome del nostro Santo Patrono, infatti è stata incisa sulla campana immagina del nostro San Rocco. Poi ci sarà un'altra campana che è stata rifusa che avrà il nome del Santissimo Sacramento perché su quella campana c'è il simbolo del Santissimo Sacramento e la terza campana è la coppia identica di quella grande di San Rocco che sarà conservata sempre in questa chiesa perché dal momento in cui la ditta avrà terminato i lavori sul campanile non potrà più salire nessuno se non i tecnici e quindi per far vedere a tutti sempre la bellezza della campana nuova intitolata San Rocco a San Rocco ho pensato di farne realizzare una piccolina da tenere sempre qui in chiesa così può essere visibile. Per abbreviare i tempi, perché il nostro Vescovo oggi è avuto una giornata molto piena di tempi, come dicevo all'inizio faremo soltanto due foto, la prima io con il Vescovo e cinque ragazzi in un istante che abbiamo ricevuto la Cresima e l'altra tutti insieme, soltanto Cresimani e padrini, non altri familiari, se no qui non ci siamo tutti. Le pergamene saranno distribuite alla fine della Messa quando noi saremo già in Sacrestia dalle Catechiste. Le pergamene, mi ricordo. Vediamo la partecipazione ai tuoi santi ministeri, il Signore, il Signore, che è la cittura della nostra nuova in te così realizzabilità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Io domani sera sarò di nuovo, perché farò le Cresime e le vado a tutti. Allora io di solito, come voi sapete, ma ci serve così, invito tutti i ragazzi e i giovani che hanno ricevuto la Cresima, vado a dire a trovarmi a Matera, così vi faccio visitare anche il palazzo di Sopini, stiamo un po' nella sala, nel Salone degli Stetti, ci mettiamo a cerchio, dove possiamo parlare, così, in posto di dubbi, in posto interrogativi, le domande, di quello che volete sapere. È un momento molto bello. Magari si va insieme anche con quelli dell'altra parrocchia, così venite insieme, possono venire anche i padrini, i matini, luoghi, e lo sapete ormai che io alla fine ho forse il preloce, tutti, tutti quelli che vengono a fare il preloce. Quindi chi non viene ci perde qualcosa. Naturalmente con le cose che ricordate il preloce. E poi, e poi sì, a parlare di giocare con la vita, mi intendo a pregare anche, perché adesso correrò subito a Matera, in un'altra parrocchia dove oggi, stamattina, ho morto un sacerdote, ecco, era molto ammalato, per cui lo affidiamo alla misericordia di e il signore, per quanto la chiesa di San Pietro in Cavioso, dove è stata allestita la camera ardente, poi l'ultima mattina, in cattedrale, per il gioco. E quindi ancora la giornata della vita. Il signore sia... No, no, aspetta, c'è noia. No, no, tolto io. No, no, tolto io. Grazie. Satelli e sorelle carissimi, oggi è festa per noi e occasione per cantare le nostre cose. del Signore che nella prima alba del mondo ha fatto risuonare la sua voce all'orecchio dell'uomo e lo ha invitato alla comunione con la vita, con la vita divina, svelandogli i suoi sentieri, misteri e indicandogli le vie della salvezza. A Mosè suo servo ha ordinato di chiamare a raccolta con trombe d'argento il popolo eletto. Allo stesso modo risuonano questi sacri bronzi per richiamare i fedeli alla preghiera. I membri di questa famiglia all'udirne il richiamo rivolgono al Padre il loro cuore e partecipando alle giovani e ai dubbi dei fratelli si raccontano in questa casa in cui da duecento anni sentono la presenza di Cristo, ascoltano la sua parola e si cibano del suo nome. Ti benediciamo Signore Padre Santo che hai mandato nel mondo il tuo figlio per radunare gli uomini dispersi a causa del peccato e a prezzo del suo sangue li hai riniti in un solo miele sotto un solo pastore per nutrirvi e guidarvi ai pascoli della vita. Concedi o Signore che i tuoi fedeli accorrano alla Chiesa con prestosa esultanza al suono delle campagne e perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nell'unione fraterna, nello spezzare il pane e le preghiera, diventi non puoi solo un'anima sola, all'ode della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Adesso il Vescovo toccherà le campane, darà loro il nome e le farà suonare per la prima volta. All'ode e gloria del Santissimo Sacramento. In onore di San Rocco all'ode gloria di Dio. San Rocco all'ode gloria di Dio. San Rocco all'ode gloria di Dio.